eccoci qui appena tornati dal campo gubbio a 0 sammettese a 0 io oramai non c'ho più parole per definire gli arbitri a gubbio perché è una vergogna anche oggi c'era un rigore a mio parere netto nettissimo forse anche uno per loro a fine secondo tempo ma da me onestamente non mi interessa visto che siamo solo noi a rimetterci e ci siamo tutti con io onestamente diciamo oggi partita abbastanza equilibrata che tra l'altro all'ultimo secondo all'ultimo secondo è stata un'occasione incredibile mi sembra che era Ettoli mamma mia ragazzi ci ha messo lo zampino difensore della sammettese ma io oggi ai ragazzi non dico niente hanno fatto quel capito fa anche perché questa a sammettese davvero una bestia nera e abbiamo sempre perso in casa si può dire siamo davvero un furtino non perdiamo mai però ci vuole rispetto come diceva 4 5 anni fa il nostro difensore briganti sempre per la situazione degli arbitri che si pretendeva rispetto perché gubbio non è secondo nessuno e non lo sarà mai cazzo è rotto il cazzo voglio ricordare che siamo il settimo comune d'italia per capienza se non sbaglio se non dico fesserie porca troia e quindi ci vuole rispetto non pretendo né favoritismi ma voglio le cose canna da porca troia porca puttana e non stufato albidi che quelli fanno 1800 falli nessun cartellino ma lo sei visto mai per carità rigore netti non dati e non è la prima volta come abbiamo visto col pordenone e a rimetterci siamo noi perché siamo più giù in classifica si cazzo siamo solo che noi a rimetterci oggi ha un'altra prestazione bellissima dei piccini davvero sta diventando davvero il migliore di tutti a mio parere momenti sfiora il gol oggi soprattutto ottimo difensore ritornata alla grande sono contentissimo porca troia e auguro un buon natale a tutti i giocatori se qualcuno guarda questo video ma gli auguro all'albitro una bella febbria 47 porca troia esplode tutto il termometro è un bel natale a casa si imparano porca troia ma soprattutto si tocca far sentire la lega perché non è inconcepibile ogni volta a gubbio ce ne sono albitri indecenti porca troia albitri che non manco dovrebbero portare solo che gli occhiali visto che non ci vedono porca troia e poi è ora che mettono la tecnologia dappertutto perché non si può le vede gli albitri da soli non valgono un emerito cazzo in italia quindi è ora che la tecnologia si muova e la mettono anche in serie c porca troia perché siamo gli ultimi del carro noi altri in serie cazzo e a questo punto anche in serie b visto che non c'è manco lì cazzo è ora che si muovemo con sta maviola e va usata quando va usata non come fanno in serie arca usino a cazzo le cani onestamente è ora è ora perché ci siamo stufati porca troia che cazzo prestazione oggi diciamo che non è stata come quella col pordenone ma alla fine abbiamo giocato abbastanza bene secondo me abbiamo fatto un'occasione nel primo tempo altre occasioni nel secondo una traversa per loro nel primo tempo e dopo forse c'era un rigore anche per loro nel secondo tempo ma ho a pari patti per la pirata in culo visto che non l'ha dato netta a noi altri a questo punto è giusto che non lo dà manco tra voi altri cazzo sono sportivo fino a un certo punto perché quando ti diranno le scatole onestamente uno va allo stadio per divertirsi invece ogni volta ti danno cazzati un là e quello e quell'altro sono stufato cazzo e adesso stasera ci sarà la Roma non prevedo niente di buono altre incazzature in arrivo come minimo meno di qualche miracolo al 5 per cento come avevo detto quell'altra volta che la Roma vinca ma non ci credo mai e niente oggi purtroppo altro pareggio che però dice che in casa siamo davvero un fortino purtroppo però questi punticini ci fai poco perché purtroppo saliamo a 18 punti ma purtroppo è così intanto un saluto al signor fedeli visto che c'è sempre di qualcosa mi sta altamente sul cazzo sarebbe il presidente della san benedettisi stavolta non hai vinto a traviante il culo a dopo sempre forza cubo nonostante tutto è arbitri merda grazie a tutti